Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Gianluferre e oggi siamo qui su Uncharted 4, un altro video, un annesimo video su questo bellissimo gioco, veramente un capolavoro videoludico. Oggi siamo su una specie di challenge, una grandissima idea che mi è venuta ora sul momento, ho appena finito a registrare un video che forse avete già visto, forse vedrete. Comunque, come potete vedere, quando noi andiamo a creare un equipaggiamento, per esempio creiamo uno nuovo, ci chiede sempre appunto diverse cose, per esempio la pistola, io ne ho sbloccato queste, normalmente quelle del nuovo aggiornamento, cioè l'Enforcer e la Hagarwall, non le ho ancora sbloccate, quindi io avrò solo queste. Queste qui per esempio sono, in totale sono 7 pistole, le armi lunghe, ora ne mettiamo una a caso tanto per farvi vedere, le armi lunghe sono ben, aspetta non mi ricordo, dovrebbero essere 9, 10, 11, 12 armi. Gli acquistabili sono, cioè questi strumenti mistici sono 5, vabbè il sentiero d'India io ancora non l'ho sbloccato. I gadget sono anche loro 5, come le armi pesanti che invece sono 7 e il partner che sono invece soltanto 4, più degli incrementi. Oggi andremo a fare una specie di Uncharted 4 draft, infatti andremo a chiedere a diverse mie persone, qui su Whatsapp, andremo a chiedergli un numero, da un numero, per esempio andremo a chiedere subito alle pistole a un mio amico e quindi ci rivediamo quando ci dirà la risposta. Eccoci qui, è passato un po' di tempo perché la gente, il cellulare lo tiene in Cambogia invece di tenerlo vicino al, come si dice, nel raggio di un chilometro, loro lo tengono in un altro stato perché non rispondo, ci metto 3 ore per rispondere. Comunque c'è arrivata la prima risposta che è quella della pistola che avevo chiesto a King e Scopro, un mio amico di nome Giovanni, che ringrazio di avermi mandato una risposta, speriamo sia giusta, invece di inviarmi cose strane, vediamo che cosa mi dice. Naturalmente sarà la pistola, quindi un numero da 1 a 7. 4. 4, quindi andremo a usare il fossa, io il fossa non l'ho mai utilizzato, cioè ci avrò fatto 10 abbattimenti, neanche 5, in basso a destra lo vedete sopra perché si sblocca 5 su 15. 5 abbattimenti, io naturalmente non so cosa mi capita, quindi potrei trovarmi armi che io non ho mai utilizzato o cose del genere, quindi vediamo il prossimo chi è. Per ora mi ha risposto anche un'altra persona che sarebbe mia cugina Beatrice, che ho scelto a caso dalla rubrica perché non sapevo chi inviare le cose, talmente tante persone non sapevo chi inviare, ho scelto lei. Quindi vediamo cosa ci dice, ci dice, ci dice c'è l'ambulanza, ci dice per i gadget, speriamo una granata oppure una mina, speriamo. Un numero da 1 a 5, 4. Ok, allora tutti fissati col 4, una mina, buono, non ho mai usato le mine neanche queste, però forse riesco a utilizzarle bene, speriamo. Dobbiamo cavarci, dobbiamo fare, ah l'obiettivo naturalmente del video è cercare di fare un abbattimento barra uccisione con una, cioè con tutte le cose che ci darà appunto, ci darà il draft. Vediamo quindi poi la prossima persona chi è. Ecco qui dopo attese infinite arrivare anche la risposta dello strumento mistico. Speriamo o in un Eldorado con cui è abbastanza semplice fare abbattimenti, oppure forse nello spirito di Jean o, boh, pietra, no, pietra centavani no, o Eldorado o spirito di Jean, quindi un altro 4. Vediamo che cosa, che risposta ci dà. Vabbè raga, io giuro non lo sto facendo apposta, non è che ho detto a tutti di mettere 4, ve lo giuro, è il terzo 4 che compare in questo draft, quindi la gente è fissata con il numero 4 a quanto pare. Quindi, vabbè, aspettiamo la risposta anche per l'arma lunga, l'arma principale e l'arma pesante e il partner. Eccoci qui, siamo tornati dopo un'altra mezz'ora, perché la gente non risponde. Siamo qui con l'arma principale, abbiamo chiesto a un mio amico, anche youtuber, Fede AK47 lo conoscerete, penso. Quindi, ora sentiamo il suo messaggio dell'arma principale, e per favore, Fede, è 8. Ha scelto il numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh mio Dio, ragazzi, lo spezzotti, il fucile a pompa, non l'ho mai usato, guardate qui, 0 su 20, 0 abbattimenti fatti. Mamma mia. Dopo altri 20 minuti, mi è arrivata la risposta dell'arma, e abbiamo un numero appunto da 1 a 5, visto che io nel Condor, nell'Arx, non li ho. Quindi, speriamo non il 4, perché la Barrock proprio no. Sentiamo che cosa ci hanno detto. 4. No, ve lo giuro, io non lo sapevo. Cioè, io vi giuro che non ho programmato tutto. Cioè, 4. Ci hanno la maniante del 4, quell'altro 8, che è il doppio di 4, capito? Cioè, illuminati. Vediamo ora la risposta dell'ultimo, del partner. Vediamo. Comunque, vuoi fare il numero 1? Così modestamente. Ok, con un accento siciliano ci dicono il numero 1, il partner Colosso. Il partner Colosso è buono. Quindi, questa qui è la classe creata dal draft, quello che è venuto. Abbiamo lo spezzotti calibro 12, il fossa, la mina, lo spirito di Jean, spirito dei Jean, scusate, la Barrock 44 e il partner Colosso. Quindi, ora andiamo a cercare un deathmatch e ci vediamo subitissimo in partita. Eccoci qui, eccoci qui. Inizia la partita con il nostro spezzotti, che ho anche modificato. Vediamo. È già iniziata questa partita. Siamo quindi in una partita in corso. Ricordo, l'obiettivo è fare almeno un abbattimento con ogni arma. Eccolo qui, subito l'abbattimento con lo spezzotti. Arriva anche il KO. Abbattimento e KO con lo spezzotti. Quindi lo spezzotti l'abbiamo già fatto. Ricordo, abbiamo ancora meno tempo, visto che dobbiamo farlo. In, cioè, in meno tempo rispetto a una partita. Anche abbattimento e KO col fossa fatta. Abbiamo già fatto tutto quanto. Ora proviamo con lo spirito di Jean. Dobbiamo usare lo spirito di Jean. Cioè, dobbiamo, mentre usiamo lo spirito di Jean, fare un abbattimento. Fatto l'abbattimento e fatto anche il KO, signori. Non abbiamo usato la capriola dello spirito di Jean, però, veramente grande. Siamo riusciti a farlo. Ho visto un movimento un po' sbagliatissimo. Ragazzi, siamo andati benissimo, però, stiamo andando benissimo in questo primo draft. Vediamo se riusciamo ad uccidere anche questo colosso. Ok, forse no. Ok, no, scherzavo. Ti voglio bene, ti voglio bene. Ti voglio bene, non uccidermi. Eh, lo sapevo. Niente, siamo morti. Ma abbiamo già fatto sia il calibro spezzotti che il fossa che lo spirito di Jean. Quindi ora andiamo a acquistare la Barrock. Questa veramente sarà difficile. Con la Barrock ci saranno dei seri problemi. Piazziamo qui una mina. Io ricordo non l'ho mai usata, quindi... Penso che lì sia un buon punto. Oh! Ho fatto il KO. Ora, facciamo una tattica. Ora loro dovrebbero venire qui. Usiamo anche l'ultimo colpo, è nato ormai l'abbiamo usata. Se vengono qui, noi facciamo finta di scappare. Ecco qui, scappiamo di qua. Speriamo che lui tocchi la mina e esploda. No, non ha funzionato. Però secondo me era una buona tattica. Proviamo a piazzare la direttamente sotto. Non esplode? Perché non esplode? Esplosa dopo, perché? Ah, che noia. Saliamo qui. Ok, qui. Speriamo questo. Eh, sarà dura, sarà dura. Ok, abbiamo i soldi per evocare il colosso. Ok, evochiamolo. Ti prego, fai qualcosa. Vai, fai qualcosa, fai qualcosa. Attacco colosso. Eliminazione soccorritore, cappa soccorritore. Ogni volta che vedo questo vedo tipo... Eh... Nemico abbattuto da colosso. Il colosso l'abbiamo fatto, ragazzi. Nemico abbattuto da colosso, eh. Manca solo la mina. Manca solo la mina, ragazzi. Manca solo la mina. No, no, ti prego, curaci. Eh, cavolo, è anche lui con lo spezzotti. Quattro kill per loro, per favore. Dobbiamo fare la mina. Dobbiamo cercare di fare la mina. Eh, io ho sentito che ci stanno abbattendo. Intanto il nostro colosso ha fatto uno scatto assurdo. Avete visto? Da, per favore, la mina. Intanto abbattiamo questo, cappa... No. Abbiamo vinto! 40-39 all'ultimo. Siamo riusciti a vincerla. Ma comunque volevo dire che la sfida non è stata completata. Eh già, abbiamo avuto la mina. È stato veramente un problema. I gadget sono un problema da fare. Quindi è stato... Comunque una grandissima sfida abbiamo fatto. Quindi ricalcolando quello che abbiamo fatto durante questo draft. Andiamo a vedere il nostro equipaggiamento. No, le prove. L'equipaggiamento. L'ultimo. Ok, alla. Spezzotto calibro 12 completato. Fossa R81 completato. Mina, purtroppo, non completato. Spirito dei Jean completato. Barrock 44 completato. Ed infine Partner Colosso completato. Quindi per questo draft è stato, diciamo, vinto in parte. Cioè, se facciamo una media abbiamo fatto molto più della metà. Solo le mine non siamo riusciti a fare. Spero che questo draft di Uncharted, questa nuova cosa, sono il primo a portarla su YouTube Italia. Su YouTube penso mondiale perché è un'idea che mi è venuta. Almeno penso sia venuta solo a me questa idea. Anche perché è un'idea pazza. Perché veramente è pazza. Spero che questo draft vi sia piaciuto. Mi sono divertito anche io a farlo. Quindi ragazzi, lasciate un like, un commento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Qui da Giallo Fire è tutto. Noi ci si becca con un prossimo video. Noi ci si becca con un prossimo video.